ben ritrovati amici chitarristi questa sera andiamo a sentire tre simulazioni di un altro grandissimo della chitarra dal suono lancinante e quando dico lancinante a me viene in mente unicamente Gary Moore e non è tanto per il suono dell'amplificatore che in tutti e tre i suoni utilizzato la simulazione di un plexi lead 200 più che altro il suo modo di suonare che lo fa veramente unico e andiamo a sentire tre pezzettini uno è di midnight blues con suono chiaramente distorto ma poco e giocandoci utilizzando il volume la seconda parte è un pezzettino di still got the blues sempre con lo stesso suono e con la distorsione praticamente con simulazione di un distorsore vi dico subito classic distortion un po più tirato e in ultima un pezzettino di cold day in hell che è un altro suono un po più lancinante degli altri due e ho abbassato il drive della distorsione quella del pedale simulato e in questa maniera il suono è risultato un po più meno compresso più acido e ancor più lancinante ma detto questo andiamo a sentire cosa ne è uscito su tutte e tre gli esperimenti suonare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Carissimi amici chitarristi, se il video vi è piaciuto e avete trovato qualche informazione utile, vi invito a cliccare un grandissimo like e ad iscrivervi sul canale per ricevere le informazioni sulle prossime uscite video. Vi ringrazio ancora e buona serata a tutti.